Salve a tutti, questo è uno speciale per i mille iscritti appena raggiunti. In passato ho fatto alcuni video sugli errori del complottismo, quindi ho pensato di fare una sintesi col simulatore vocale per facilitarne la comprensione visto che la mia voce fa schifo e non ho un microfono decente. Non solo, ho anche pensato di parlare degli errori dei cosiddetti debunkers, cioè quelli che credono di demolire le teorie del complotto. In realtà, non essendo mai stato uno di loro, nei video sugli errori del complottismo avevo accennato a come gli stessi errori dei complottisti vengano fatti anche dai debunkers. Quello che voglio cercare di dimostrare è che nessuna delle due categorie sa argomentare, ma ovviamente gli uni dicono che gli altri non sanno argomentare. Infatti io cerco spesso gli errori logici di due fazioni contrapposte, come atei e credenti, fascisti e comunisti, eccetera nessuno si salva. Veniamo a noi uno degli errori logici su cui insisto spesso sono le argomentazioni a dominem, che consistono nell'accusare o insultare o offendere qualcuno al posto di argomentare. L'argumentum a dominem è una fallacia di pertinenza, cioè si tenta di dimostrare una cosa diversa da quella che si dovrebbe dimostrare. Cioè dire che le lobbyist ci guadagnano con i vaccini, anche se fosse vero non dimostri assolutamente che i vaccini fanno male e le due cose non si contraddicono. Esiste anche una fallacia della falsa antinomia o falsa contraddizione, ma è meglio non dilungarsi. Potrei controargomentare dicendo che anche l'acqua è commercializzata da multinazionali criminali, ad esempio l'acqua vera è prodotta dall'anestè, ma ciò non significa che se i medici dicono di bere acqua stanno facendo gli interessi delle multinazionali. Oppure riguardo le scarpe, se smettessimo di indossarle e andassimo in giro scalzi faremmo un grosso danno alla Nike e all'Adidas. Ma ciò non significa che se un medico ci dice di indossare le scarpe per evitare di farci male ai piedi, di calpestare pietre, vetri, siringhe, eccetera, lui è pagato dalla Nike. Io credo che l'argumentum a dominem sia l'errore complottista per antonomasia. Spesso i complottisti dicono cose del tipo, questa cosa è vera perché Tizio e Caio hanno interesse a volerti far credere il contrario. Ad esempio, molti sostengono che Dio non esiste perché il Vaticano ha un potere enorme e tanti soldi e quindi ha l'interesse nel volerti far credere che Dio esista. Al contrario altri complottisti sostengono che la massoneria è tradizionalmente anticlericale e quindi Dio esiste perché la massoneria ha l'interesse nel farci credere il contrario. Anche dei bunkers cadono spesso in questo errore. Ad esempio, la parola complottista ha già un connotato negativo. E quindi se una tesi è etichettata come complottista deve per forza essere sbagliata e allora la storia finisce lì. Oppure, se tra Israele e la Palestina sei dalla parte della Palestina allora sei antisemita. Se critichi una persona per qualche ragione, ma quest'ultima è di origine ebraica tu sei antisemita, non importa se questa persona è colpevole o innocente, se è ebreo allora tu sei antisemita. Per non parlare di quando si accusa il complottista di essere paranoico o malato di mente, oppure di essere fanatico religioso, o estremista in politica, eccetera. La parola estremista inoltre può essere intesa in più significati. Si può essere estremisti nei metodi, ad esempio facendo uso della violenza. Oppure avere una posizione che rispetto alle altre può essere classificata come estrema. confondere queste due accezioni di significato è un errore chiamato fallacia di equivocazione o di ambiguità. Inoltre l'idea seconda cui una posizione politica sia estrema non ha molto senso perché puoi parlare di estrema o moderato solo se hai un punto di riferimento. Non solo, questo punto di riferimento sei il pensiero dominante o quello che sostiene proprio tu allora è anche una raccomentazione circolare. E' molto relativo ciò che può essere visto come estremo o moderato. Se io nel settecento mi fossi messo a parlare di diritto di voto alle donne sarei stato preso per pazzo, mentre oggi lo diamo per scontato. L'errore tipico del debunker invece è l'appetitio principi, cioè l'argomentazione circolare di cui parlavo prima. In essa la conclusione è già data per dimostrata nelle premesse. Quando si parla di fake news o complotti vengano liquidati come balle perché dal momento in cui cercano di dimostrare che l'opinione pubblica è falsa, dato che quest'ultima deve per forza essere vera, allora chi la contesta deve essere falsa. Cioè, se giornali o la tv dicono qualcosa io mi permetto di controbattere fake news o complotto, perché viene già dato per dimostrato che sia vero. C'è chi è venuto a dirmi che una cosa è falsa perché i cosiddetti siti di debunking dicono che è falsa, io sono senza parole. Come dico sempre, prima o poi aprirò anche io un sito di debunking o contro le bufale, vorrei proprio vedere se verrei creduto. Di recente un noto divulgatore scientifico che si freggia del titolo di debunker, Dario Bressanini, per cercare di sbugiardare infinito, il quale aveva detto che l'aroma di vaniglia spesso non deriva dalla vaniglia ma dal castorium, una sostanza estratta dal di dietro dei castori. Oltre a ridicolizzare l'idea, non ha fatto nient'altro che tenere in mano un bastoncino di vaniglia dire eccola qui la vaniglia, qual è il problema? Non ha per niente dimostrato che il castorium non esiste, ha solo ridicolizzato l'idea seconda cui la vaniglia deriva dal sedere dei castori e ribadito che l'aroma di vaniglia deriva dal bastoncino di vaniglia. Infinito non voleva dire che la vaniglia non esiste, ma che l'aroma di vaniglia spesso deriva dal castorium e non dalla pianta. Sta di fatto che il castorium non solo esiste ma è perfettamente legale in America usarlo come aroma alimentare naturale. Qui oltre ad essere caduto nell'appetitio principi, Bressanini è caduto anche nella fallacia del ridicolo che consiste nel ridicolizzare una tesi nel tentativo di farla sembrare falsa, e nella fallacia dell'uomo di paglia, che è un sottotipo di fallacia di pertinenza, che consiste nel dimostrare come falsa una tesi più facile da demolire. Dimostrare che la vaniglia esiste veramente e che infinito volesse far credere la vaniglia viene dal di dietro dei castori è più facile che dimostrare che non esiste il castorium. Non solo, se l'è presa anche con il fatto che infinito ha messo uno scoiattolo al posto del castoro tra le immagini. Oppure quando si parla di scie chimiche, a prescindere dal fatto che io non conosco nulla di questa teoria, non si fa altro che ribadire che esistono le scie di condensazione. Ma non hai dimostrato niente, non esiste contraddizione tra l'esistenza delle scie di condensazione e quelle artificiali, oppure intervisti persone dell'aeronautica. Persone che dovrebbero coprire questo complotto se esistesse, grazie al cavolo che ti dicono che non è vero, non stai facendo altro che dare per dimostrata la tesi che si vuole confutare. C'è un vecchio articolo che se lo trovo, ve lo metto in descrizione, in cui si tenta di dimostrare che le scie chimiche non esistono intervistando presunti scienziati i quali dicono cose del tipo a me sembra di vedere scie di condensazione cose simili. Quando si parla di bufale, praticamente non si fa altro che ribadire senza argomentare l'opinione ufficiale dicendo che chi la contesta è complottista. Questo errore è legato all'argomentazione del vero condiamo e quella del populum. La prima è il riferimento all'autorità, ritenuta indiscutibile e vera in assoluta, quella del populum consiste nel credere che l'opinione della massa sia vera e indiscutibile. Cioè i giornali, la tv o alcune testate sono considerate autorità indiscutibili, oppure l'opinione della massa, oppure alcuni scienziati, e non altri, sono considerate autorità, perché se contraddicono la massa sono ciarlatani ovviamente. Cioè, se esce una notizia e le testate principali, o i politici, o le persone interessate negano allora deve essere falsa. Il problema sta proprio nel cercare di mettere in discussione ciò che sostiene l'opinione della massa e quella riportata dai media ufficiali, grazie al cavolo che essi dicono che è, falsa. Tutto ciò non ha senso. Che poi i complottisti non sanno argomentare nemmeno loro questo è chiaro, ma nessuno di noi sa argomentare, ci vogliono anni di studi di logica per poter sparare di fare meno, errori. Ora vi lascio con questa domanda. Se nessuno dei due sa argomentare chi ha ragione? Grazie a tutti.